Grande affluenza di pubblico nel fine settimana per il presepe vivente, la luce, la madre, il pianto di un bambino, organizzato dalla Forti Smorgia nella cornice esterna dell'ex ricovero di Mendicità d'Altamura. Una grande macchina organizzativa che ancora una volta è risultata vincente e collaudata. Lungo il percorso guidato, i visitatori hanno potuto ammirare scene di vita quotidiana rievocanti la tradizione del territorio e i vecchi mestieri come la filiera del grano e la lavorazione della lana, interrotti dai quadri fissi dei momenti più importanti che precedono la nascita di Cristo. Musiche, narrazioni, allestimenti, luci, niente è stato trascurato dagli organizzatori e dei tanti figuranti che hanno accolto i visitatori resistendo al freddo fino a tarda sera. Ci troviamo presso l'ex ricovero di Mendicità dove è stata inaugurata la terza edizione del presepe vivente targata Forti Smorgia. A inaugurarla il monsignor Giovanni Richiuti, vescovo di Altamura, Gravina e Acquaviva delle Fonti. Eccellenza, il valore simbolico di questa manifestazione? Buonasera innanzitutto. Coincidenza vuole che io vengo adesso da Gravina in una chiesa di Santa Maria delle Grazie dove i bambini, bambini non solo italiani ma anche provenienti da altri paesi, tre musulmani, due africani, seduti intorno al presepio mi hanno posto due domande. La prima è questa, diceva, vescovo ma che cosa è quello là? Indicando il presepio. Ho detto, ecco, il presepio significa mangiatoia e ci ricorda questo racconto straordinario per noi cristiani di questo Dio che si fa uomo come noi e che non è riconosciuto, non è accolto, che trova rifugio, la sua mamma, in una poverissima abitazione e lì nella mangiatoia deporrà il bambino appena nato. L'altra domanda è stata ma qual è il significato? Io ho detto che il presepio raccontandoci questa straordinaria storia dell'amore di Dio verso l'umanità vuole essere un messaggio, un messaggio all'umanità di ieri, di oggi, di sempre perché l'umanità torni a volersi bene, torni a rispettarsi nelle differenze, nelle diversità, di fedi, di tradizioni, di culture. Ecco, proprio in un'attenzione verso la fraternità. Poi, intanto, complimenti anche alla Fortis per il presepio vivente, così come in tantissime parti d'Italia e del mondo, ecco, quasi a rivivere quell'evento straordinario e stupendo che è stata la Natività del Signore. Quindi, anch'io faccio mio, ovviamente per chi ascolta, chi guarda, chi visiterà questo presepe vivente, così credo ben allestito e ben organizzato, che si raccolga il messaggio per un Natale di pace e di fraternità. Quindi, possiamo dire che il Natale è il momento migliore per lanciare questo messaggio di fratellanza, non soltanto appunto a chi crede in Dio, chi è cristiano, ma un po' a tutto il mondo. Sì, sì, proprio anche in sintonia con il messaggio scritto da Papa Francesco per la giornata della pace, il primo gennaio prossimo, 2017, il cui titolo è questo, la non violenza, un stile per una politica della pace. Ecco, allora, politica di pace, allora pace. Ecco, penso proprio che guardando il bambino Gesù, noi crediamo davvero che lui è il primo non violento della storia, perché ha invitato all'amitezza, ha invitato al perdono, ha invitato ecco, alla fraternità. Non c'è, credo, momento migliore, anche per l'emozione, perché no, che il Natale accende nel cuore dell'umanità, al di là di ogni differenza e diversità, non c'è momento migliore per raccogliere appunto questo messaggio, questo invito a guardare con più fiducia un po' di umanità riconciliata nella fraternità per il futuro. Ora, un pensiero puramente personale, le sta piacendo? Sì, io sono proprio all'inizio, diciamo, della mia visita e sì, penso che davvero sia molto suggestivo anche il tutto, sia nell'ambientazione, nei costumi, e devo dire anche nel coraggio dei, diciamo, degli attori, di questo presepe vivente, di questo presepe vivente, in questa fredda, ecco, serata natalizia, possiamo dire. Beh, come fu appunto il freddo e il gelo con cui Gesù fu accolto in questo mondo. Ci troviamo con il sindaco Giacinto Forte che nel frattempo ci ha raggiunto. Sindaco, un pensiero su questo presepe e sulla location in particolare? La location è unica, è stata ridata vita qui e lo hanno fatto questi della Fortis, questa associazione straordinaria. Io vorrei nominare Beppe, lui sa chi è, Carlo, Gianni e Tonia. Nomino questi per nominare tutti coloro i quali hanno messo su questo spettacolo unico e straordinario che è unito ad un'altra serie infinita di eventi che renderanno quest'anno il Natale in questa città veramente, veramente unico. Guardate cosa sono riusciti a realizzare. Fa freddo stasera ma le emozioni sono tali che il caldo si sente, si sente nel cuore e si sente grazie all'impegno di queste straordinarie persone che rendono unica questa mia città. Io continuo a dirlo e grazie a queste associazioni che un sindaco si sente onorato e orgoglioso di essere il primo cittadino. Invito tutti quanti ad essere qui. Abbiamo invitato anche altre tv perché saranno i turisti che verranno a dirlo, perché secondo me questo sarà il presepe vivente più bello che è stato realizzato in Puglia, perché ci hanno messo il cuore, ci hanno messo la passione. Questa associazione è riuscita a fare qualcos'altro di unico, è il miracolo che io ritengo integrare, integrare. Io sono stato qui in queste settimane a vedere il lavoro che è stato fatto e vedere persone che si ritenevano inutili lavorare, andare avanti e dietro, quello è il miracolo più grande che la Fortis ha messo in essere quest'anno e pertanto veramente, veramente grazie a tutti. Quindi si può rifare l'anno prossimo? Lo dicevo ad alcuni miei amici, ormai ritengo che ci sono due o tre eventi che vanno inseriti nel cartellone proprio di questa città perché capisco le difficoltà anche economiche per mettere su qualcosa del genere. È vero la partecipazione, il volontariato, ma c'è bisogno veramente, veramente di qualcosa di più concreto. Dobbiamo farlo capire a tutti, insomma, che questo tipo di iniziative devono entrare in un contesto importante che dobbiamo poi presentare come amministrazione a Bari e dire questo noi riusciamo a fare, veniteci incontro perché con le sole forze dell'Associazione e con le forze del Comune non si può andare avanti. Questi sono spettacoli che dovrebbero essere allargati all'intera Puglia, all'intero paese, insomma. E questa è la scommessa che insieme alla Fortis metteremo sicuramente in essere. Quindi il Comune appoggia in tutto tutte le iniziative che Fortis Morgia ha messo in piedi, di compresa questa? Assolutamente sì e cercheremo di spronarli. Poi mi cacciano perché so il lavoro che c'è dietro, tutto quello che riescono a realizzare per il Natale, per Federicus e veramente non finirò mai di ringraziarli, veramente unici. Gianni Moramarco, Presidente Fortis Morgia. L'importanza di questo evento è due parole. L'importanza è duplice perché noi stiamo sperimentando, stiamo cercando di conseguire due obiettivi. Il primo obiettivo è quello di porre al centro dell'attenzione della comunità altamurana il portale della cattedrale e abbiamo voluto valorizzare la formella della natività. Questo presepe è ispirato alla formella che riproduce la Madonna distesa e addirittura due volti di bambino. Noi vogliamo che questo portale costruito nel 1300 possa essere patrimonio dell'umanità perché ha un valore artistico rilevante, unico, esclusivo. Il secondo obiettivo che invece ci vogliamo raggiungere è quello di sperimentare il nuovo Federico su 2017. Per cui stiamo riproponendo una serie di procedure utilizzate nel Medioevo recuperando le tecniche di produzione e recuperando anche gli attrezzi con i quali si facevano determinati prodotti. Qui proprio, non so se riesce a inquadrare la bottega del Mastro Birraio, abbiamo tentato di ricostruire la procedura di produzione della birra secondo quella che veniva utilizzata nelle vecchie abbazie. Mentre qui a sinistra dietro alle mie spalle potranno verificare come poteva essere ricostruita una candela. Per cui stiamo cercando di acquisire quelle metodologie che anticamente nel Medioevo venivano utilizzate e che erano quotidianità e che erano anche attività lavorativa. Questo non solo in funzione di Federico su 2017 ma anche perché pensiamo di poter impostare su questi concetti un'attività turistica positiva, attiva, alternativa. Vogliamo proporre i famosi musei viventi, che cosa vogliamo dire? Noi pensiamo ai musei come qualcosa di morto, qualcosa di spento, qualcosa di inattivo, invece noi vogliamo riportare attrezzature metodiche che invece siano funzionanti e siano inattive. Cioè in sostanza vogliamo far vedere come funzionava una macina come quella che per esempio è qui esposta per raffinare l'orzo. Vogliamo far vedere come si veniva a realizzare una candela e vogliamo creare posti di lavoro. Quanto è importante per voi e per l'evento in generale la presenza qui del Monsignor Richiuti? Intanto stiamo parlando della festa religiosa più importante, quella del Natale. Tra l'altro non abbiamo trascurato l'aspetto religioso e la presenza di Monsignor Richiuti e la testimonianza tra l'altro di un rapporto con l'Arcivescovado che dura dal primo giorno in cui noi abbiamo attivato i nostri progetti anche di tipo turestico. Voglio ricordare che con la diocesi noi abbiamo sin dal primo anno intrattenuto un rapporto di forte collaborazione per cui le parrocchie sono parte integrante di questo progetto.